Voltiamo ancora a pagina in piazza del plebiscito a Napoli, da oggi l'intreccio affascinante tra scienza e fantascienza alla 29esima edizione di Futuro Remoto, alla conquista del centro della città. Tanto da vedere e da fare, moltissimi gli studenti già tra gli stand, ma ci guida in questa edizione in diretta Margherita Rosciani. Buon pomeriggio a tutta la campagna, questo è il villaggio di Futuro Remoto, il grande incontro della scienza campana da anni e anni, proprio qui in piazza del plebiscito. Migliaia di studenti che già sono arrivati tutta la mattinata, l'inaugurazione alle 10 con il sindaco di Napoli e con il rettore Gattano Manfredi dell'Università Federico II. Tutto questo è grazie a Città della Scienza, all'università e naturalmente a tanti attori. Tema di quest'anno le frontiere, per cui l'apertura dallo spazio alla terra, mai più appunto chiusure, come ci testimonia. C'è anche un muro che sarà ogni giorno abbattuto da un testimonial, proprio Ignacio Ramonet, giornalista, scrittore e direttore del MUNNO. Per cui, quale è il significato del suo arrivo a Napoli? Stiamo qui perché partecipiamo in una tavola redonda questa serata, alle 19, sul tema delle frontiere, dei migranti e dei rifugiati. Dopo questa tavola redonda andremo a questo muro che sta qui simbolico e comincieremo a scrollarlo, a abattirlo, perché pensiamo che vogliamo un mondo senza muri. Grazie, per cui un mondo senza muri, appunto le frontiere, con noi c'è Vincenzo Lipardi, consigliere di Città della Scienza. Ma guarda, io devo dire che sono molto felice. Oggi a Piazza del Plebiscito abbiamo aperto questa grande manifestazione con 20.000 ragazzi e tanta gente che è venuta. Cosa hanno trovato? Hanno trovato l'Italia più bella, la Napoli più bella. Sette università, 400-300 di ricerca, associazioni, volontari, mille volontari che hanno realizzato Futuro Remoto. Con un messaggio possiamo costruire un'Italia e un mondo che si vale sul pace e sviluppo. E' un'altra cosa molto bella, accanto alla scienza, accanto alla cultura, lo Stato. Ecco, qui avremo tutti gli organi del Stato, dalla polizia all'esercito, che danno un po' un senso. Il senso che questo nostro Paese può combattere criminalità, malaffare, anche diciamo un po' di sfiducia, soltanto se è capace di guardare con speranza, fare squadra e guardare, costruire una nuova Italia. Ecco infatti Antonio Grilletto del Ministero della Difesa, qui tutte le forze armate e naturalmente le forze dell'ordine. La tecnologia appunto ci aiuta anche nell'accoglienza. Sì, lo Stato Maggiore della Difesa è presente a questa bellissima manifestazione con le sue forze armate, esercito, marina, aeronautiche e carabinieri ed espone la sua tecnologia più avanzata che impiega per la sicurezza dei cittadini in Italia, quindi per i fini istituzionali garantiti dalla Costituzione, ma non solo, come direbbero, o anche oltre le frontiere, con le numerose missioni di peacekeeping in atto e in assetto duale. Questo è un concetto molto importante perché lo abbiamo anche per le calamità, assetti per fini istituzionali compatibili con le calamità. Ecco, ricordiamo che il villaggio di futuro remoto sarà qui a Piazza del Plebiscito fino a lunedì 19. La linea torna allo studio.